Uffa nonno, non riesco a chiamare il papà. Cosa c'è tesoro? Non riesci a chiamare il papà con il computer? No, salta sempre la linea. A che ora arriva papà? Non lo so, volevo chiamarlo per sapere quando arriva. Luca, chiamerai dopo il papà, vieni e dà la mano alla nonna. Ok, arrivo. Grazie. Ti ricordi che mi sa fanno gli gnocchi? Sì, sì. Nonna, che ne dici il mio nuovo tipo di gnocco? Bello, bellissimo. Mamma mia, sei stato veramente bravo, amore. Grazie. Prego, amore. Pronto? Pronto? Ma no! Porta pazienza, Luca. Tesoro mio, ho finito il sale. Te lo vado a prendere io. Grazie, amore. Grazie a tutti. Ciao papà, finalmente. Come stai? A che ora parti? A che ora arrivi? Ciao campione! Sono Piela Rapporto e dovrei tornare verso le 8. Dai, dai, ci vediamo presto. Ciao! Sì, sì, oggi ci siamo si incontrato dall'aeroporto via telefono, fantastico. Eccoci qua. Oh, attenzione, un applauso alla nonna, sui miti cingliocchi! Un momento di attenzione, prego. Eh, voilà! Ma cos'è? Prendila, papi. Oh, attenzione, un applauso alla nonna, sui miti cingliocchi! Prendila, papi. Sì, sì! Un applauso alla nonna, sui miti cingliocchi! Grazie.